Questa qua sarà più o meno una clip, voglio che sia un video brevissimo dove non vi rubo tempo, vi dico soltanto che ho creato un podcast per chiunque si fosse perso il video di Jordan dove un pochino ve lo accennavo. In descrizione trovate già il link per il secondo episodio, ci vediamo ogni mercoledì sul nuovo canale. Ciao ragazzi!